buongiorno ballerine ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video oggi è un video molto speciale perché ho un annuncio da farvi proprio da oggi è disponibile nella mia scuola di danza online un nuovo corso di danza per principianti ma prima di raccontarvi che cosa troverete nel corso a chi è rivolto e come poterne usufruire facciamo un passo indietro circa tre anni fa quando ho iniziato questo progetto semplifichiamo la danza insieme quindi la mia presenza su youtube ho voluto cercare di essere una figura di riferimento per i giovani ballerini volevo essere la figura di riferimento di cui io avrei avuto bisogno da piccola nel mondo della danza sotto tanti aspetti tanti punti di vista sia con la parte pratica che con la parte teorica quindi con la parte teorica mi riferisco alle trame dei balletti le interviste le reaction e tutto quello che c'è di più culturale nella danza mentre nella parte pratica ho cercato di mostrarvi ad esempio come fare un buono chignon oppure come eseguire una perfetta pirouette eccetera creando la mia scuola di danza online voglio approfondire ancora di più l'aiuto che posso dare dal punto di vista pratico ecco perché ho creato dei corsi che possono essere un supporto possono aiutare il ballerino nel miglioramento nell'acquisizione di determinate skills o capacità relative al mondo della danza come ad esempio la capacità di fare un buon arabesque e dunque acquisire flessibilità nella schiena piuttosto che capacità di fare una spaccata e dunque acquisire una certa flessibilità nell'articolazione dell'anca oppure ancora essere in grado di ruotare il più possibile gli arti inferiori verso l'esterno e dunque possedere un determinato range di ande or ovviamente il mio obiettivo non è mai stato quello di sostituirmi ad una scuola di danza ma bensì affiancare il lavoro di un giovane ballerino attraverso dei corsi e quindi dando loro quel materiale in più quel quid in più che possa portarli a migliorare se stessi e ad arrivare davvero al top infatti tutti i miei corsi sono strutturati per chi solitamente fa già danza da molti anni e vuole semplicemente migliorarsi in una determinata area che può essere appunto la flessibilità nella schiena nelle anche lande or eccetera invece il nuovo corso che esce proprio oggi è indirizzato a tutti per quale motivo perché ciò che per me conta di più è che la danza amatoriale possa essere davvero praticata da tutti e credo che la disciplina della danza possa fare del bene a tutte le persone a qualsiasi età ovviamente va fatta con consapevolezza di sé e serietà ho notato che c'era una grande esigenza di un corso sulle basi della danza per persone adulte non per forza ovviamente degli adulti in età super avanzata ma è aperto ovviamente anche a loro ma anche magari a dei ragazzi che hanno iniziato in una piccola scuola del loro paese vogliono incrementare le ore di lavoro e vogliono capire bene quali sono le basi della danza perché ovviamente io consiglio sempre di prendere parte ad un corso in una scuola di danza ma capisco che per alcuni adulti non si trovino dei corsi organizzati in delle scuole di danza proprio per un target come quello degli adulti perché quello che troverete in questo corso sono le basi della danza che di solito vengono insegnate a bambini di 8-9 anni che faremo in prima e in seconda posizione vi ricordo che la seconda posizione non deve essere eccessivamente grande ma i vostri talloni devono essere in linea con le vostre anche ovviamente però in un linguaggio per adulti che hanno una determinata consapevolezza di sé e obiettivi un po' diversi rispetto ai bambini di 8-9 anni visto che frequenteranno questo corso per piacere di danzare e imparare ovviamente la disciplina non di certo per arrivare a un livello professionale qual è il vantaggio che può avere questo corso di danza oltre al fatto che appunto non sono necessarie basi rispetto alla danza ma si può arrivare da zero approcciarsi alla disciplina oltre a questo ovviamente vi permette di avere un po' più di sicurezza in voi stessi visto che lo farete a casa vostra possibilmente magari da soli o anche in compagnia ma senza avere delle altre persone che non conoscete che potrebbero giudicarvi o voi potreste sentirvi soggetti ai loro giudizi quindi molta tranquillità e serenità vi darà del tempo visto che in una scuola di danza quando frequentate un corso ci sono dei tempi dettati sia dall'insegnante che dagli altri componenti del corso mentre in questo caso il tempo lo decidete voi perché tutte le lezioni sono sempre disponibili e consiglio soprattutto vivamente di ripeterle più e più volte potete scegliere anche il momento della giornata che preferite quindi davvero potete farlo nel modo e nel tempo che preferite l'altro vantaggio è che ho cercato di dare davvero le basi della danza semplici chiare ma corrette una volta che si hanno acquisito queste basi poi si possono fare anche dei corsi magari di livello medio piuttosto che avanzato l'importante è mettere delle basi salde qui vi voglio mostrare un pochino cosa trovate nella mia scuola di danza attualmente ci sono già tantissimi allievi pronti ovviamente ad accogliervi troverete nel corso innanzitutto un bel riscaldamento è un bello stretching perché sono fondamentali per iniziare la lezione e per concluderla nel modo corretto soprattutto se non avete mai fatto danza e quindi avete bisogno di riscaldare bene i muscoli di allungarli alla fine della lezione e di prendervi davvero cura del vostro corpo e poi troverete una sbarra completa attraverso questa sbarra potrete comprendere quali sono le posizioni base quali sono le sensazioni che dobbiamo ricercare insomma un po tutte le regole codificate della danza classica ma in modo sereno tranquillo e anche divertente a chi è rivolto questo corso questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare a fare danza o anche a coloro che vogliono ritornare alle basi della danza e riuscire a perfezionare proprio le posizioni il tendu il singolo passo il plie insomma comprendere anche l'origine dei singoli passi e quindi tornare un po indietro per ristabilirsi ed essere veramente perfetti nelle basi lo consiglio dai 12 anni in su perché ovviamente ci vuole un minimo di consapevolezza di sé visto che vi parlerò di alcune parti del corpo quindi bisogna essere anche in grado di autocorreggersi e sentire determinate sensazioni e l'età limite non esiste nel senso che comunque potete davvero approcciarvi anche se non avete mai fatto danza c'è sempre stato solo il sogno che avevate nascosto nel vostro cassetto riguarda solo la danza classica assolutamente no è proprio un corso che riguarda le basi che andranno bene per anche altri generi di danza quindi non è assolutamente limitato solo al genere della danza classica e se siete ormai adulti credete che non ci siano speranze per voi non preoccupatevi perché questo corso è stato proprio pensato per voi e realizzato passo dopo passo io spero di trovarvi prestissimo nella mia squadra di danza online in cui ci sarà già una community ampia ad attendervi infatti per tutti coloro che partecipano e prendono parte a questi corsi c'è una community disposta a rispondere alle vostre domande io per prima a confrontarsi e darvi un aiuto concreto durante tutto lo svolgimento del corso vi aspetto nella mia squadra di danza online se siete interessati trovate il link per l'accesso al corso qui in descrizione e anche un codice sconto speciale che varrà soltanto oggi proprio per il lancio del corso io vi saluto vi mando un grande bacio e vi attendo prestissimo nella mia squadra di danza online ciao